eccoci qua ragazzi ben ritrovati in questo nuovo capitolo del corso oggi parleremo di sax e andremo a vedere come creare un buon suono di sax all'interno del brano quindi saxofono è uno strumento fiato quindi deve essere comunque microfonato e io consiglio vivamente l'utilizzo di un microfono a condensatore microfono che si differenzia dal microfono dinamico quindi condensatore a differenza del microfono dinamico perché ha un suono sicuramente migliore per la registrazione quindi home recording e registrazione studio sicuramente un microfono condensatore è super consigliato microfono dinamico come un sure beta 58 osm 57 sono microfoni che sono più adatti per un utilizzo live quindi sicuramente microfono a condensatore io qua ho un brano che è stato registrato con un sondronics stc2 microfono relativamente economico e questo per dire comunque anche che la qualità del microfono sicuramente influisce tantissimo sulla resa del mix quindi un microfono che ha una buona qualità già di partenza ci aiuta moltissimo poi quando è ora di mixare quando andremo a creare il suono della nella produzione quindi andiamo a sentire qua l'intervento di questo sax che è stato registrato appunto con un microfono condensatore direttamente nella scheda audio senza fare niente senza essere compresso equalizzato e assolutamente andiamo a sentire un po' com'è e com'è andremo a migliorare mettiamo il solo ok ok come prima cosa andiamo a creare il solo comprimerlo quindi dynamics e qui possiamo utilizzare fabfilter c2 qui voglio comprimerlo abbastanza perché comunque all'interno di una parte del brano che è molto dove ci sono molti strumenti che stanno suonando quindi diciamo che la compressione il suono compresso mi aiuta a tenerlo lì come come timbrica soprattutto e anche un po come volume quindi attacco sempre diciamo un pochettino lento per fare in modo che la prima parte del suono rimanga vitale quindi il compressore arriverà successivamente a 20 millisecondi ok 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 non è male così accorciamo ancora il tempo di release ok 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 andiamo equalizzarlo adesso questo suono quindi eq sempre con un equalizzatore della fabfilter quindi fabfilter pro q3 qui io vado a togliere tutto sotto le frequenze che sono sotto le 150 200 no 150 hertz poi andremo a dare un po di corpo verso quelle che sono 250 hertz e un po di aria un po di leggibilità in quello che sono i 7 8 mila hertz e poi anche un po di medio alte quindi sono piuttosto nasale quello del sax quindi andremo mettere un equalizzatore dinamico che vada un po di attenuare quello che so che il suono un po esagerato del naso del sax quindi e come diventa già più leggibile così il corpo lo diamo qua ok bello vedete senza un po più morto si ravviva un po diventa già subito più aggressivo per dargli ancora più aggressività andiamolo a saturare quindi in che modo lo andiamo a saturare andiamolo a saturare con un cosa potremmo usare qua utilizziamo un soundtoys decapitator decapitator che ci aiuta a dare quella grinta quella quel graffio quella appunto quel drive quella quella distorsione quella leggera distorsione nelle frequenze più sulle frequenze acute quindi sentiamolo così è tanto per far capire che cos'è la distorsione sentite meno abbassiamo il volume sentite però quando parte è bello ok andiamo a aggiungere due effetti un delay e un un riverbero quindi andiamo subito a mettere delay l'age delay della waves e quindi qui diciamo che poi a discrezione di quello che vogliamo del suono che vogliamo tenere perché più aumentiamo il volume del delay e più avremo un suono tipo anni 80 un po' più tamarrino diciamo mentre invece per avere un suono più più fighettino diciamo in termine tecnico andremo a mettere più riverbero quindi adesso vi faccio sentire mettiamo un po' settiamo questo riverbero a circa ma anche tre tre secondi buoni per di lei 20 millisecondi va bene mix lo vedremo poi quanto riverbero mettere andiamo a sentire prima il delay e sentiamo appunto il suono tipico anni 80 del sax aumentando il feedback aumentiamo il numero di ripetizioni appunto del delay bello eh bello eh riverbero Sentiamo senza delay, no direi che è decisamente meglio con il delay. Sentiamo nella seconda parte del brano, bello! Molto bello! Bravo anche quello che suona! Diciamo che facendo un piccolo riassunto, C2, quindi compressore, abbastanza schiacciato in questo caso perché comunque abbiamo molto volume a toro, abbiamo molta produzione. Quindi ci aiuta a tenere il volume, non tanto il volume, il volume lo gestiamo col fader. Il compressore cambia il timbro, quindi va a cambiare, va a tener lì quello che è la timbrica un po' del suono. Poi l'equalizzatore per dare più aggressività, più aria, più leggibilità togliendo in maniera dinamica quelle che sono le frequenze medio-basse, quindi in questo caso 655 Hz. Poi il corpo 340 Hz, che lo rende un pochettino più grosso. Decapitator molto bello e molto utile per dare quel graffio, quell'aggressività appunto al suono. Delay e riverbero come se piovesse, nel senso che in questo caso è molto bello sentire appunto un suono del sax con tanto riverbero. Delay però è una questione di gusti, mi limito a dire semplicemente che sono due effetti che sono da utilizzare, poi la proporzione e la quantità di effetto dipende un po' anche da voi, da quanto ne volete utilizzare. Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo appuntamento.